Ben ritrovati da Pasqualino Rettura per questo nostro nuovo appuntamento con i giornali in tv, nuovo appuntamento che come sempre iniziamo con le prime pagine dei quotidiani nazionali, noi uniti più armi a Kiev, titola il Corriere della Sera, Biden sente gli alleati e ringrazia l'Italia, Meloni, forte coesione, assistenza a 360 gradi, quindi Ucraina, il leader americano, Biden, inviamo i tank migliori, ma non è un'offensiva contro la Russia, Mosca, bruceremo i loro carri, di spalla sempre sul Corriere della Sera, la Shoah, non smettete di raccontare quell'orrore, dice uno dei sopravvissuti all'olocausto. Poi ancora andiamo sempre alle prime pagine dei quotidiani nazionali, su Repubblica, l'Italia garantisce lo scudo a Kiev, quindi Stati Uniti e Germania confermano l'invio dei tank in Ucraina, Roma manda gli antimissili, sempre sulla Repubblica, ai prof salari variabili, scrive la prima pagina di Repubblica. La stampa, subito le armi, o vince Putin, parla Crosetto che è il Ministro della Difesa, daremo sistemi antiaerei, Biden chiama Meloni, è leader europei, azioni solo difensive, questo era appunto sulla stampa, quindi molto spazio, almeno nei primi tre quotidiani che siamo andati a vedere le prime pagine, appunto al conflitto Ucraina-Russia che ormai dura da quasi un anno. Poi sul Libero invece, Libero decide di titolare diversamente, clamoroso al CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, sul Libero, un leghista a capo dei giudici, ribaltona ai vertici della Magistratura, Pinelli prende voti pure a sinistra e viene eletto, è la fine del monopolio giudiziario rosso, sorpresa per Mattarella che preferiva il rivale. L'avviso di Zaia a Bruxelles, sempre la foto sul quotidiano, la Repubblica, anzi sul quotidiano Libero, l'avviso di Zaia se tocca il vino l'Europa rischia, questo è su Libero come detto che sceglie anche un altro titolo rispetto agli altri, anche il giornale comunque fa riferimento alla giustizia, è ora di aggiustare la giustizia, il centrodestra riesce a fare leggere il suo uomo al CSM, con il terzo polo ci sono i numeri per la storica riforma, questo era su Il Giornale. Il fatto quotidiano, siamo in guerra e ora ce lo dicono, Biden e Scholz inviano i tank, Kiev possiamo colpire il Cremlino, poi Meloni e C arruolati, Crosetto va sull'attenti agli Stati Uniti, scrive Il fatto quotidiano, si prepara allo scontro aperto, Salvini e B, inteso Berlusconi, tentano di fermarlo, Fratelli d'Italia li respinge, questo oggi tratta la prima pagina del fatto quotidiano, notizia più importante in prima pagina, poi la verità, l'imbroglio delle multe Covid, Ministro batta un colpo, scrive la verità. Il Tempo c'è una foto di Giorgia Meloni, non hai retto a pompa, scrive appunto sul Tempo, riferito allo sciopero, come titolo del Tempo, sciopero farsa dei benzinai, quindi i distributori sono aperti, soltanto una giornata di sciopero a cui comunque hanno aderito circa 85% dei benzinai in tutta Italia, quindi solo una giornata di sciopero, tutto ormai è tornato alla normalità. In pensione a 70 anni per chi vuole lavorare, scrive Il Messaggero, la prima pagina del Messaggero, sempre sul Messaggero PNRR, piano antiburocrazia. Dopo Il Messaggero abbiamo anche domani con la foto del Ministro della Difesa, Crosetto, Biden rinnova l'impegno dell'alleanza per l'Ucraina, poi Salvini e Berlusconi hanno provato a fermare l'invio delle armi a Kiev, scrive domani. Poi sullo sole 24 ore, la foto che riguarda il Festival di Sanremo, la foto con Gianni Morandi, Chiara Ferragni e Amadeus, che è la sua quarta presentazione del Festival di Sanremo, la RAI ha già vinto con gli spot, la raccolta degli spot pubblicitari al Festival di Sanremo, titolo Sole 24 ore, sfiora i 50 milioni di Euro. Poi il riformista, gli 007 per catturare Messina Denaro, Scarpinato e Pignatone li fermarono, scrive oggi questa notizia appunto. Clamoroso retroscena del mancato arresto su il riformista. Poi la ONG beffa Meloni e evita 237 morti in mare, sempre sui riformista. Poi andiamo a Il Mattino, sud di vari insostenibili, l'Istat, mezzogiorno al collasso, intervenire con urgenza, rischio tsunami demografico, PNRR, molti comuni campani sono in ritardo, in arrivo un decreto per legare d'appalto più veloci. Poi sì a 120 carri armati, Meloni, Sente Biden, Scholz e Macron. Questo era il Mattino. Sul resto del Carlino c'è una foto con questo titolo, l'ho uccisa io, Iana Malaico sparita ma c'è la confessione. Questo oggi riporta il resto del Carlino. Il manifesto carri armati, anche qui si parla dei carri armati, i cosiddetti tank che gli Stati Uniti hanno inviato in Ucraina. Poi il dubbio, il dubbio, CSM, le toghe moderate scelgono la lega, Pinelli e vicepresidente. L'identità, la prima pagina dell'identità nell'ufficio del Bosso, nome in codice Galletto, quindi si parla ancora della cattura di Messina a denaro. L'avvenire, armiamoci e partite, anche qui la questione dei carri armati in Ucraina. Poi Leggo, Italia senza camici bianchi, si parla della carenza dei medici. Sul Leggo la notizia, inviare i teff a Kiev non è un'offensiva contro Mosca. Biden mente senza pudore, ma tutta l'Europa gli va dietro. Questa era la notizia. Il quotidiano del sud in coppia digitale, l'altra voce dell'Italia. Il trappolone dell'autonomia leghista, quindi quattro vincoli invalicabili mettono a rischio il governo Meloni che piace ai mercati e fa le riforme senza dirlo. Poi sempre a centropagina, il divario spopola al sud le due Italie, incubo del paese, sul quotidiano del sud, l'altra voce dell'Italia. Andiamo anche alle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Milan, colpi e colpe, piano Z per i rinforzi, Zaniolo o Zivec. Poi questo era su Gazzetta dello Sport che parla della crisi del Milan. Juve senza pace invece scrive il Corriere dello Sport. Dopo la penalizzazione altri rischi collegati alla manovra a stipendio. Anche i giocatori nel merino, ma le squalifiche non sono scontate. Poi dopo il Corriere dello Sport, tutto sport fa un titolo diverso rispetto al Corriere dello Sport, sempre però sulla Juventus. Juve c'è anche una carta segreta, perché la Covsoc scriveva alla Procura il 14 aprile del 2022 e perché la Procura non vuole mostrare quel documento che potrebbe retrodatare l'indagine e costituire un vizio di forma. Altro mistero nell'inchiesta scrive appunto il quotidiano Tutto Sport, sempre nell'ambito del nostro appuntamento con i giornali in TV. Quindi abbiamo letto anche le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Ora andiamo anche ai quotidiani regionali partendo dalla dalla prima pagina, copia digitale appunto di Gazzetta del Sud, Gazzetta del Sud, andiamo come sempre a prendere come riferimento l'edizione Catanzaro, La Mezzia, Crotone e Vibo Valencia. Quindi andiamo alla prima pagina, ecco qui, la prima pagina di Gazzetta del Sud che titola Un'industria celluce oltre la crisi, sindacati preoccupati per le scelte del governo sulle politiche del welfare. Poi inchiesta a rimpiazzo in appello 11 condanne, soverato processo per il finto ginecologo, occhiuto firma il decreto del commissario ad acta di modifica per la fusione dei due ospedali pugliese di Catanzaro e Università Magna Grecia, Policlinico Mater Domini, che appunto l'unione, la fusione di questi due ospedali darà vita all'azienda unica Dulbecco. Poi ancora sulla prima di Gazzetta del Sud, discarica di scandale il no della regione, annullato d'altare. Poi in alto a sinistra l'operazione che c'è stata, i soldi dell'andrangheta riciclati in mezzo a Europa, ci sono stati appunto 8 arresti e altre 3 misure cautelari, poi sciopero revocato, benzinai aperti, in rialzo i prezzi dei carburanti. Poi a centro pagina Biden, alleati uniti nel sostegno. Di piede nella prima pagina di Gazzetta del Sud, a sinistra eletto Pinelli, il CSM si spacca, adesso serve condivisione. Poi stop agli emendamenti leghisti, la maggioranza litiga sui migranti, pari opportunità, Fratelli d'Italia e Forza Italia e la neopresidente lascia subito, questo era sullo quotidiano Gazzetta del Sud, la prima pagina, poi andiamo anche a scorrere su Gazzetta del Sud online, sempre edizione Catanzaro, La Mezza, Crotone e Vibbo, Andrangheta, Blitz contro le cosche del Vibonese, 56 arresti, quindi c'è stata un'altra operazione con 56 arresti questa volta eseguiti dalla Polizia di Stato contro le cosche del Vibonese, quindi la mano dell'Andrangheta arriva dappertutto, lo dimostra l'operazione scattata oggi appunto nel Vibonese che ha riguardato le cosche Mancuso, La Rosa e poi a Corinti a coordinarle la DDA di Catanzaro, 56 le misure cautelare oltre al sequestro di beni per 250 milioni di Euro, quindi dopo l'operazione con 11 arresti c'era stata altri. E poi ancora le questioni che riguardano i furbetti del reddito di cittadinanza, nella provincia di Catanzaro 150 persone sono state denunciate per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza, quindi la Guardia di Finanza ha denunciato queste 150 persone dopo aver eseguito accertamenti nei confronti di 318 percettori del reddito di cittadinanza. Quindi oltre a loro c'è pure una donna residente nell'Interland catanzarese fra i 150 denunciati, risultata però titolare di disponibilità finanziaria per 160 mila Euro, quindi questa donna percepiva il reddito di cittadinanza ma aveva in banca 160 mila Euro. c'era anche un ventenne che si era distaccato fittiziamente dai nuclei familiari, un nucleo familiare che percepiva un reddito anno pari a 130 mila Euro, quindi ci sono state queste 150 persone che sono state denunciate alle procure della Repubblica di Catanzaro e anche alla mezzia terme. Poi la lavatrice delle cosche vibonesi, gratteri, truffatori salvati dalla riforma cartabbia, riforma dell'ex ministro della giustizia cartabbia. Alla mezzia terme incidente sulla strada statale 280, località Palazzo, una donna è rimasta ferita. Poi Catanzaro, Pugliese e Materdomini, il primo passo ufficiale di occhiuto. Poi il muro pericolante sarà abbattuto, intesa tra il comune di Catanzaro e l'ospedale Pugliese. È stato rinviato a giudizio un finto ginecologo assoverato e alla mezzia mancano i pediatri di base, tanti disagi per le famiglie di la mezzia terme. Poi i manager Rizzo e Lazzaro tornano ai vertici dell'aspo di Catanzaro. Poi a Mileto, intimidazione a un'impresa campana, stretta sugli autori. Poi a Pizzo, Litte, tra due operai sfocia in un accoltellamento. Dranghete in Emila Romagna confiscati beni per 13 milioni di Euro ai Q3, sì, legati ai grandi aracri. Poi ancora la storia di Magda, il cane che vive nel cimitero di Catanzaro Lido davanti alla tomba del padrone. Poi strada provinciale chiusa da due anni, il sindaco di Marcellinara torna ad alzare la voce. Poi Calabria, De Blasio, eletta presidente della commissione di parità, ma nel centro-destra è polemica. Poi ancora Calabria, eccesso di risorse elargite al sud, i dati che smentiscono il nord. Questo era appunto sulle pagine di Gazzetta del Sud online. Nell'edizione cartacea, l'edizione calabrese del quotidiano del sud leggiamo Gas, il vero banco di prova sarà il prossimo inverno, bisogna cambiare strategia. L'Italia ha bisogno di approvvigionamenti, nel frattempo è stato revocato lo sciopero dei benzinai. Poi Sanità, per coprire il buco non si garantiscono i LEA che sono i livelli essenziali di assistenza. Poi il verbale del tavolo a duce chiarisce le ragioni dell'avanzo di gestione, soldi dello Stato non spesi, tanti problemi, stock del debito a oltre un miliardo e assunzioni ferme. Smontata anche azienda zero. Poi fiumi di denaro riciclati in Europa e le truffe ai sultani dell'Oman, colpo ai clan vibonesi, 11 arresti e 25 indagati. Poi Sanità, caso Dulbecco, c'è il decreto del commissario ad acta che revisiona il programma. Poi Regione, Commissione, pari opportunità, strappo tra Fratelli d'Italia e Forza Italia. Inchiesta sul clan dei Piscopi Sani, processo rimpiazzo, l'appello si chiude con 11 condanne. Poi 26 gennaio 1943, quel calabrese nato due volte, Giuseppe Lento e l'Inferno Russo. Poi la recensione, l'eternità del mare e storie mediterranee. Poi separazione delle carriere dei magistrati, si riprova. Poi ancora Crotone, Cara Sant'Anna, il centro di accoglienza per i migranti, aggiudicazione definitiva per la gestione. Poi Comune di Vibo Valencia, piscina chiusa, Soriano, aspettiamo fatti dopo quattro anni. Comune di Reggio Calabria, la Giunta difende la scelta di non aderire allo stralcio delle cartelle. Poi sempre Catanzaro, transizione digitale, il Comune si aggiudica i fondi del PNRR. Ciro Marina, caso Strancia, è stata assolta Franzè. Poi all'interno delle pagine i benzinai ci ripensano, sciopero revocato, messina denaro e i tanti pizzini a Provenzano, scarsa fiducia per la politica. Quindi ci proseguono ancora le inchieste, l'inchiesta sulla cattura di messina denaro, altri dettagli, giustizia, Gratteri, il Procuratore di Catanzaro. La riforma cartabbia ci blocca nel contestare una mega truffa. Cosa significa? Significa che è stata scoperta, secondo il Procuratore della DDA di Catanzaro, Gratteri, è stata scoperta una mega truffa, ma siccome manca la querela della parte offesa, non si è potuto procedere, perché la riforma della giustizia cartabbia, l'ex Ministro della Giustizia, prevede che per procedere bisogna che ci sia una querela da parte delle parti offese. Poi Coldiretti, in Calabria gli anziani non sono un peso, ma una risorsa. Poi Crotone, l'ex direttrice regionale dell'Inps a giudizio per truffa, ma il rischio prescrizione al centro della vicenda, i titoli, questa ex direttrice regionale dell'Inps non avrebbe avuto i titoli per fare la direttrice ed è finita a processo, ma c'è il rischio della prescrizione. Una condanna, tre prosciolti e due a processo. Si tratta dell'ex direttrice regionale dell'Inps, Alessandra Infante, licenziata 4 anni fa. Era già stata direttrice regionale e provinciale di Crotone dell'Inps. Poi Catanzaro, transizione digitale, fondi per Catanzaro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il cosiddetto PNRR. Girifalco, il seme della legalità nella memoria. Il generale della Chiesa ha raccontato dalla figlia Simona, gli studenti di Girifalco. Poi la Mezzia Terme, c'è una petizione popolare lanciata dall'ingegnere Francesco Grandinetti, già Presidente del Consiglio Comunale della Mezzia, via l'obrobrio da Piazza Mazzini. L'ex Presidente del Consiglio Comunale annuncia una petizione. Grandinetti sostiene che bisogna demolire questo cosiddetto obrobrio. Qui vediamo la foto, è una struttura in ferro realizzata nel progetto di riqualificazione di Piazza Mazzini per il Terminal dei Bus. Quindi Grandinetti è per la demolizione e chiederà al Sindaco di farla demolire. Al Teatro Grandinetti c'è il premio Bronzi di Riace che le compagnie della Federazione Italiana Teatri Regionale darà ai vincitori. Poi l'inaugurazione nasce l'ambulatorio solidale, servizi medici gratuiti per le fasce deboli. Sabato mattina ci sarà l'inaugurazione dell'ambulatorio solidale grazie alla Caritas Diocesane che lo mette a disposizione nei locali del complesso interparrocchiale San Benedetto. Poi una consulta per il benessere degli animali, quindi è stata costituita la consulta per il benessere degli animali all'interno del Comune di La Mezzia Terme. Poi il Comune di Decollatura perde dei fondi, finanziamenti non geolocalizzati. Il grave errore dell'Istat ritiene il Comune di cintura e non periferico per colpa del TomTom, appunto il navigatore, lente e escluso dai contributi per le aree interne. La donna la metina nella storia. C'è appunto un appuntamento al Chiostro Caffè Letterale della Mesa Terme. Poi Teatro Ragazzi al Teatro Grandinetti, la didattica sul palco con lo spettacolo Cronache della Shoah. Poi dal Senato il no alla legalizzazione delle droghe. È stato appunto inaugurato al Senato lo sportello Scelgo la Vita. Alla nascita di questo portale ha partecipato anche il consigliere provinciale Francesco Trunzo, nonché vice sindaco di San Mango d'Aquino. Questo era appunto sulle pagine del quotidiano del Sud. Andiamo anche alla provincia di Vibo. A Vibo Valenze dopo 4 anni aspettiamo i fatti, dice Stefano Soriano a proposito della mancata riapertura della piscina di Vibo Valenze. A Vibo il comune azzera i fondi vincolati. A Tropea lavori pubblici da Piazza Cannone ai vicoli del centro di Tropea. Ci sono appunto in programma dei lavori pubblici. Poi a Pizzo rimossa la carcassa di cinghiale, soddisfatta adesione democratica. Questo era sul quotidiano del Sud. Nella provincia di Vibo Francavilla, pungitore e la passione per i ragazzi. Questo appunto parla l'allenatore di una scuola calcio di Francavilla. Entriamo appunto nello sport, con lo sport col calcio in particolare. Chiudiamo, arriviamo alla conclusione del nostro appuntamento con i giornali di TV. Final Four c'è Italia-Spagna, sorteggiate le semifinali della Nations League. Quindi vogliamo vincere e dedicare il successo a Viali, dice Evani, che è un collaboratore del CT della Nazionale di Calcio, Renato Mancini. Poi Serie B, Cosenza. A sorpresa c'è Dorazio. Il terzino sinistro torna il rosso-blu dopo due anni e mezzo. Poi Regina, Giraudo passa al Cittadella. La squadra si prepara a sfidare a Bolzano il Sud Tirol. Nuoto, Reggio Calabria, prova tempi, 500 atleti, è un grande successo. Scherma, Master Nazionale, Monteforte, Terni, Brillano, Fioretto e Sciabola per quanto riguarda le formazioni calabrese. Poi in Serie C, Catanzaro. È arrivato Brignola, quindi acquisto del Catanzaro. È arrivato Brignola che è l'esperienza al Cosenza. Meglio non parlare, sono qui per tornare in Serie B. Brignola arriva dal Cosenza. In Serie C, Crotone. La SPAL spinge per avere Carcbo. Questo era appunto il mercato che riguarda il Cosenza. Andiamo alla Serie D, in particolare alla Coppa Italia di Serie D. La mezza dunque raggiunge i quarti di finale dopo i calci di rigore, eliminando il Trapani. Mataloni neutralizza due tiri dal dischetto. Tempi regolamentari che sono finiti in parità nella ripresa. La mezza era passata in vantaggio con Kunzi. Poi c'è stato il pareggio di De Pace 1-1. Quindi finisce 1-1 i tempi regolamentari. Poi, come prevede il regolamento, si è passati ai calci di rigore. I calci di rigore sono stati battuti 8 calci di rigore. Di questi 8 la mezza ne ha realizzati 6, mentre il Trapani ne ha realizzati 5. In questi 8 calci di rigore il Trapani dunque ne ha sbagliati 3. Uno è stato spedito fuori, l'altro invece e gli altri due sono stati parati da Mataloni. Quindi esordio in panchina con tanto di patos per il tecnico della mezza Claudio De Luca. I giallobru infatti al di Polito strappano il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Il 22 febbraio la mezza giocherà i quarti di finale contro la vincente del match tra Cavese e Francaville che si sfideranno l'1 febbraio prossimo. Quindi i calci di rigore sono stati decisivi a favore della mezza. La mezza che nel primo tempo è schierato con il modulo 4-2-3-1 da De Luca, poi nel corso della partita passata al 4-3-3 si era fatto pericoloso, nel primo tempo ha sfiorato diverse volte il gol, due volte lo ha sfiorato con Crisafi, classe 2004, attaccante centrale, punta centrale, centravanti schierato titolare da De Luca e poi anche con Alma ha fallito il gol, ma anche con Aldessi sul finale del primo tempo. Nella ripresa la mezza sblocca il risultato con Cunzi che entra su cross di Maimone di testa, batte il portiere del Trapani, Summa, porta in vantaggio la mezza. Ma sugli sviluppi di un calcio d'angolo, 5 minuti dopo, De Pace, tra l'altro originario di Curinga, pareggia per la partita. Poi c'è stata un'azione anche sul finale, la mezza al secondo minuto di recupero ha avuto l'occasione per passare il vantaggio, ma l'arbitro non ha concesso un calcio di rigore perché Alma sottoporta ha calciato e ha toccato con un braccio il difensore del Trapani, ma l'arbitro non ha concesso il rigore. E poi si è andati ai calci di rigore, Alma ha segnato, Carboni del Trapani pure, poi Cunzi gol, Cangemi gol, Maimone gol, Marigosu gol, Borgia gol, Pipitone parato, Emanuele calcio fuori, Mascari gol, Crisaffi gol, Catania gol, Zuli parato, Musso tira fuori, De Luca gol e poi il rigore decisivo di De pace che è stato parato da Mataloni e la mezza così ha raggiunto i quarti di finale di Coppa Italia. Si è giocato anche un recupero di campionato nella serie di Gironei, il recupero è stato Castrovillari, Canicattì, il Castrovillari perde in casa ancora una volta, il Castrovillari ha un'altra sconfitta, perde in casa per 1-0, quindi Castrovillari è crisi continua, K.O. anche contro il Canicattì e ricordiamo che in serie D per il prossimo turno c'è il programma Luigi Razza di Vibbo, Valencia, Vibbonese e Catane, si giocherà sabato, quindi la partita è stata anticipata, ma vi ricordo, vi rimando sempre agli appuntamenti con a tutto calcio per saperne di più sia della serie B, della serie C, della serie D, ma anche del campionato di eccellenza, in questo caso della Lametina Promosport. Con questo noi siamo arrivati alla conclusione del nostro consueto appuntamento con i giornali in TV, come sempre ogni giorno con voi sui canali 94 e 98 del Digitale Terrestre di STV, ma vi ricordo che potete seguirci anche sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube di STV. Come sempre da Pasqualino Retture è tutto, grazie per l'ascolto e l'attenzione, grazie per averci seguito fin qui, vi ricordo sempre l'appuntamento con a tutto calcio, come dicevo, anche ogni lunedì alle 20.45 e poi le repliche del martedì alle 14.30 e del mercoledì alle 22.30. È proprio tutto con il giornale in TV, naturalmente ci rivedremo nelle prossime edizioni, da Pasqualino Retture è tutto, un saluto, alla prossima.